Nuovo appuntamento con la nutrizione del benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci propone un nuovo alimento, cioè la margarina. Allora dottore, quali proprietà ha la margarina e come consumarla? Sì, allora, un po' per completare il discorso che avevamo preso la settimana scorsa con il burro, oggi parliamo appunto della margarina, che ha avuto un po' un percorso opposto a quello del burro. Questo perché se il burro per tanti anni era stato un po' demonizzato e ultimamente, con le dovute attenzioni, è stato un po' riscoperto, per la margarina è vero l'opposto, cioè per tanti anni è stato considerato un prodotto più salutare, anche migliore dal punto di vista nutrizionale rispetto al burro, mentre ultimamente viene considerato un po' da non preferire, quindi da evitare. Cominciamo col capire che cos'è. In effetti la margarina è un prodotto derivante da oli vegetali, quindi olio di cocco, di palma, di girasole, resi solidi attraverso un prodotto di idrogenazione. Questo che vuol dire? Che gli acidi grassi insaturi degli oli vengono trasformati in acidi grassi saturi e trans, quindi un'emulsione di acqua in una sostanza grassa, in cui la parte grassa deve essere circa l'80%, questo per legge, il 2% invece è una parte di umidità, quindi di acqua, e a cui però possono essere aggiunti diversi altri ingredienti, quindi coloranti naturali, aromi, additivi, e quindi diciamo in generale rispetto al burro un prodotto un po' più elaborato. Per quanto riguarda le calorie, per 100 grammi sono 760, quindi un poco meno rispetto al burro, sempre comunque di più rispetto all'olio. Però se andiamo a vedere la composizione della margarina, è come detto appunto, contiene un'alta percentuale di acidi grassi appunto saturi, cioè proprio quegli acidi grassi che numerosi studi negli ultimi anni hanno identificato come i responsabili dell'aumento della colesterolemia, dell'ipidemia, e quindi che pongono i soggetti a maggior rischio di patologie cardiovascolari e anche metaboliche. Ovviamente però esistono anche delle margarine con un ridotto contenuto di grassi oppure senza grassi idrogenati. Non contiene lattosio, mentre può contenere glutine, questo più che altro per contaminazione negli stabilimenti di produzione. Ovviamente è sempre da preferire l'olio d'oliva, rigorosamente made in Cilento, però per chi magari la consuma in cucina, ecco possiamo anche consigliare degli spettatori in che quantità e quanto mangiarne. Sì, allora innanzitutto per fare una classifica di questi prodotti da condimento, ecco al primo posto c'è sicuramente l'olio extravergine di oliva, poi il burro e per ultima la margarina. Esistono però anche delle margarine che vengono fortificate con degli steroli vegetali, degli omega 3, anche la vitamina D, proprio per venire più incontro al consumatore e quindi creare dei prodotti da un punto di vista nutrizionale più equilibrati. Resta comunque un prodotto molto calorico, quindi da consumare con moderazione nell'ambito dei 5-10 grammi, poche volte a settimana e comunque è sconsigliato per chi soffre di colesterolemia e ama anche chi è in sovrappeso o obeso. Bene dottore, grazie per i consigli, grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione. Continuate a scriverci, a consigliarci quali sono gli alimenti che più vi interessano, sempre o sulla mail del dottore oppure alla nostra redazione. Ci vediamo la prossima settimana sempre su Cilento Channel con la rubrica Nutrizione e Benessere.